Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale Allora, questo è più che altro un video di presentazione perché lo voglio mettere in evidenza e vi invito a continuare a seguirmi se avete delle preferenze riguardo ai video basta che commentate e io vedrò di realizzare le vostre richieste ovviamente anche insieme al mio fidanzato spero che tornerà presto e detto questo ho detto tutto ciao ragazzi